Il sindaco ha appena comunicato che Ikea è interessata a insediare il proprio punto vendita nell'area dei navicelli. È un successo per questa amministrazione comunale. L'insediamento Ikea porterà lavoro sul nostro territorio, porterà occupazione. È un altro successo di questa amministrazione. Mettiamo in fila alcune questioni che si sono risolte positivamente. L'altro giorno si è concluso il cantiere di Corsitalia. Oggi questa bella novità di questo insediamento di vendita e di un indotto che si creerà intorno a questo. Io credo che questa amministrazione abbia ancora da mettere in cantiere Piazza dei Cavalieri ed altri risultati importanti per la città. Noi siamo soddisfatti, votiamo il documento e quindi apprezziamo questa iniziativa della multinazionale svedese perché è sicuramente positiva per il territorio e per la città.